Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenze e Scandicci e il Bivio per la variante di Valico, e rallentamenti tra Barberino di Mugello e Aglio. Sulla FIPILI per lavori ci sono code in entrambe le direzioni tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. Buongiorno di Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buongiorno di Toscana.